Musica Si è inaugurato a Mesagne il percorso dei presepi per le festività natalizie del 2011. Nel giorno di Natale e in quello dedicato a Santo Stefano, il centro storico mesagnese è stato preso d'assalto da tantissimi cittadini che hanno voluto vedere i numerosi presepi presenti lungo il percorso inaugurato quest'anno. A partire dalle ore 18 si sono aperti i battenti dei locali nei quali le associazioni di volontariato e nonno di Mesagne hanno creato diverse rappresentazioni della natività. La folla, diversatasi nel centro storico, ha visitato i presepi e si è scambiata gli auguri per le festività lungo Piazzetta Sant'Anna dei Greci, Via Santa Cesaria con Frantoio e Ipogeo, Piazzetta dei Ferdinando, Piazza 4 Novembre, Via Albricci, Piazza Comestibili, Piazzetta dei Giovannomo, Via degli Azzollino, Piazza Orsini del Balzo, Piazzetta dei Coronei e Vico Zambelli. Accanto al momento devozionale non sono mancate le occasioni di divertimento con gli stand gastronomici a base di pettole di ogni tipo e la musica che ha fatto radunare nelle piazze gli amanti della musica popolare e della pizzica. L'appuntamento per rivivere la magia dei presepi si rinnoverà il primo di gennaio, giorno di Capodanno, e per il 6 gennaio, giorno dell'Epifania.